Un artista che non amava il bel mondo, che ai salotti preferiva una compagnia intima con cui passeggiare a Polenta e Barbera e che per il suo carattere un po' grezzo e scontroso forse non ha ricevuto l'attenzione che meritava, specie dopo la morte. Questa la figura di Paolo Gaidano, nato a Poirino nel 1861 e deceduto a Torino nel 1916, che emerge dalla personale organizzata nella Galleria Carla Spagnuolo a Palazzo Lascris, sede del Consiglio regionale del Piemonte, alla presenza del presidente Stefano Allasia. Un'esposizione con 40 opere inedite, due delle quali parte di una serie di 11 tele dipinte per l'Imperia Shakespeare House di Londra. La maggior parte arrivano però da Poirino grazie al prestito di alcuni cittadini. Un piccolo spaccato di una grande produzione che ne conta più di 500 dell'artista, pittore per passione. Paolo Gaidano era innanzitutto una persona semplice, umile, nasce da una famiglia poverissima in un paese di provincia, nasce però con un talento eccezionale. Amava anche autoritrarsi, ha fatto cinque autoritratti. L'ultimo l'ha fatto nel 1913 ed è quello che gli è riuscito meglio. La Galleria degli Uffizi di Firenze, saputo di questo autoritratto, glielo manda a chiamare come opera da esporre in modo perenne nelle loro sale. Lui siccome si era un po' affezionato a questo ritratto perché gli era venuto particolarmente bene, decide che fa fare una bellissima foto dell'autoritratto e poi manda la foto alla Galleria. Paolo Gaidano nasce come affreschista ma attraverso vari generi a prodo al ritrattismo e la mostra a Palazzo Laskaris che si apre con il suo autoritratto a vent'anni ne dà ampia rilevanza. Nelle sue opere si respira molto dell'atmosfera della sua città ma anche delle sue origini, della vita contadina, spaccati di una quotidianità, di cose semplici per un artista che ha avuto molti committenti in Italia e all'estero ma che con Poirino ha sempre avuto uno stretto rapporto. In passato sono state fatte altre mostre dedicate a questo artista Paolo Gaidano però oggi è il coronamento di un sogno proprio perché avere il Paolo Gaidano in mostra a Palazzo Laskaris è sicuramente un qualcosa di importante per i poirinesi e sicuramente anche per tutti gli amanti della pittura e della bell'arte. Subito dopo la morte fu dedicata al Paolo Gaidano una via così come anche a Torino e poi anche una scuola, la scuola Paolo Gaidano. I poirinesi hanno molte delle sue opere anche perché il Gaidano è stato un pittore che era così bravo ma anche rapido nella sua esecuzione che quindi ci sono tante opere del Gaidano e sicuramente i poirinesi, i poirinesi appunto di vecchia data un Gaidano a casa ce l'hanno e lo conservano veramente stretto e con orgoglio. Paolo Gaidano il mutevole volto di un artista a Palazzo Laskaris in via Alfieri 15 a Torino dal 17 ottobre fino al 29 novembre. Orario da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. L'ingresso è gratuito.